Come hai raggiunto? Mi sponso che è stato un match riuscito, ripeto, è normale che ci siamo castigati, stasera c'è un lucro importante per noi. Abbiamo parlato di un'equipa forte, forte buona. Io dico che è un'equipa che può lupare per il titolo. E' un'equipa che mi ha piaciuto. Aveva giocatori di vitezza, di taglie. Non è stato uscito, ma noi ne abbiamo descurcato bene. E abbiamo iniziato un pic, ma dopo la ripresa abbiamo giocato bene. Abbiamo creato l'occasione e i miei hanno avuto la sfarsi, ma sono molto felice. Vrei felici per i baieti. E' un'equipa di parte a rappresentanti del mass media. E' un 2-1 scopo perfect per il titolo? Beh, non lo so. Io sono uscito anche 2-1, 1-0. E' importante che ci siamo castigati. Perché oricum siamo in tre mesi di qualcosa di speciale. E' un'equip. Mi è stato utile con mei è stato il proprio tempo per l'estate. E' un'equip. E' un'equip che ho appena guardato. Iniziamo con cinque vittori in gioco e questa è la manca deputa da baietti che hanno dato disponibilità e questa mi è molto felice e la manca del staff che lavorano con me e sono molto felice in questo momento. Cosa ha fatto con le fasi fixe? Non è uscita, ho i giocatori di dettaglio, i giocatori che trage bene in porta, la vittura della colza, non è uscita, ho un match riuscito, è normale che si possa migliorare in questo momento in questa equipe perché deve venire buona. In questo momento era forte, forte importante, perché credere viene se hai un risultato, non si lucrezi bene in corso settimana, ma è normale che dovrebbero avere risultati per altre da credere. No, io non mi ricordo di questa situazione, per me era importante se castigiamo, questo era importante per tutta la luce, perché era un test di maturità, e, ripeto, con l'equipa che probabilmente va fi greu e per CFR si castigiamo la Bucuresti, perché, ripeto, mi ha piaciuto. Io posso dire che avevi giocatori molto buoni, ma questo è merito dei miei baietti che hanno giocato bene e hanno castigato. Voi sentite, mai a parlare del titolo dopo questa vittoria? No, no, deloc, noi avem un match importante, la Botociani non mi ricordo il titolo, sincero, questo è un lucro che ținem in sufleto nostro, farò să vorbim, farò să facem declarazioni, cine stia ce, e noi ne ricordiamo non mai să muncim, 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 perché avevamo, due attività, noi, baietisti stia che posso stricare, stricare, stricare un match tutta la muncim di un anno. Adicca, eri au inceputato con altri, sindi e antrenori, e, ati, dovremmo avere una muncim di un anno, quindi, noi ne apropriamo la sfârsit del campionato, e dovremmo amiliorare, ma è molto importante che stiamo con il piediro a pò kilowattro. Crede che il successo di Craiove ha un effetto psicologico attuali CFR-ului? C'è il successo che si sono rimasti per l'ansieto? Beh, si può che è normale, se non siamo ipocriti, se non si può dire che non si può perdere uno, due punti o tre, è normale. Questo è un lucro normale che a settembre entra in competizia, credo che il CFR sia un'esercizio forte e sperimentata con i giocatori che non hanno un livello, non credo che vogliono sentire questo lucro meno con il gas media. Ma in ogni caso, ogni match deve essere giocato bene, fare la sua subestimezza e l'avversario, e quindi vediamo cosa si succede. Quali ci sono i giocatori di voi? No, ma molto bene, è normale che dopo un match sia greo, con l'adrenalina, con le tensioni e le emozioni che abbiamo avuto. Voi vedete di nuovo questo match, è normale che mi vuoi guardare in video, di nuovo questo match. No, in generale, dico io che sono molto umbito di ciò che abbiamo avuto, ripeto, l'equipa che è unita, è un gruppo molto importante, ci sono unità dintre loro e questo si riflette per il terreno, si vede per il terreno quando l'equipa allarga, si allarga impreuna, si aiuta e questo è molto importante per l'equipa. Grazie mille. Grazie mille.